Non posso partire senza la mia amata lacca e il mio gatto portafortuna. Ma, acci fischio, Claudio Termodinamica, il mio vecchio professore di fisica. Oh Gesù, per fischio, sei ancora vivo. Certo, sto andando a trovare mio nonno. Che cos'hai nello zainetto? La lacca per i capelli, devo stare attento a non agitarlo, se no esplode. E il mio amato gatto portafortuna. Cosa fai? L'esperimento del gatto di Schrödinger? E il terzino della Germania Ovest del 74? Come vent'anni fa, non ricordi niente. Il paradosso della meccanica quantistica. Il gatto nella scatola, che sia vivo sia morto allo stesso tempo. Ma il mio gatto è un peluche, non può essere vivo. Per tutti i lantanidi. Ciao, sono Pierfischio. Fai come me, iscriviti al canale YouTube delle Stortis. Stortis!